Come Regione Marche stiamo scommettendo anche sulla birra, siamo partiti con una legge specifica di valorizzazione e promozione dell'esistente, abbiamo diverse realtà, birrifici agricoli, artigianali, ormai sta diventando un elemento stabile nell'offerta enogastronomica della nostra Regione, quindi ci sembrava giusto anche proporre delle nuove attività cercando di coinvolgere sempre di più un pubblico, un'utenza che sta dimostrando grande attenzione nei confronti della birra. Quindi l'8, il 9 e il 10 di dicembre parte birre aperte delle Marche, BAM, questa iniziativa che speriamo, ma io credo di sì, accolga l'interesse dei marchigiani e perché no, considerando che è un weekend lungo anche di potenziali turisti che possano così apprezzare anche attraverso la birra il nostro territorio, perché comunque i 22 birrifici che hanno aderito, che è un numero molto importante perché sono oltre la metà dei birrifici esistenti, considerando che è la prima edizione possiamo solamente crescere e migliorare, ecco sono birrifici presenti in tutte le nostre province da nord a sud, quindi sarà l'occasione per bere una buona birra e conoscere il nostro territorio. Grazie a tutti.